Salve a tutti e benvenuti sul canale Creare con Sud-Est. In questo video tutorial andremo a realizzare un coprispalle da bimba. La lavorazione è classica, tutto maglia rasata diritta per renderlo elegante e quindi indosabile in qualsiasi occasione. Il coprispalle è corto che arriva circa alla vita, poi volendolo potete allungare oppure accorciare al vostro piacere per renderlo adatto alle vostre esigenze. Qui ho una taglia di 12-18 mesi, realizzato tutto con i ferri del numero 2 per avvio tubolare, numero 2,5 per tutte le rifiniture tra tutti gli elastici e i ferri numero 3,5 per la maglia rasata diritta. Oppure andate a prendere i ferri del numero 4 per rasato diritto se tendete a stringere. Per realizzare questo coprispalle ho utilizzato il filato Superwool Mondial 100% lana vergine merino, merino extra fine per cui è delicatissimo, non fa il pallino, molto morbido e ideale per i bambini. Qui abbiamo un rosso meraviglioso, rosso rubino, purtroppo la camera non ve lo fa vedere così com'è, cercherò di mostrarvi al meglio il colore nelle foto. Vi ricordo come sempre che il filato lo potete acquistare nella nostra merceria Sudest, giù nell'info box troverete il link della merceria, il link del filato per acquisto online, troverete anche il gruppo Facebook Creare con Sudest dove potete iscrivervi e condividere tutte le vostre creazioni con noi. Per questo coprispalle ho utilizzato poco più di tre gomitoli, quindi diciamo che il quarto gomitolo è stato utilizzato giusto 5-10 grammi in tutto. Vi ricordo inoltre di non dimenticare di cliccare sulla campanella per non perdere i prossimi tutorial in uscita, cliccate sul mi piace che questo aiuta a crescere il mio canale e quindi io vi ringrazio veramente di tutto il cuore. Adesso passiamo al tutorial. Per realizzare il nostro coprispalle io incomincio la lavorazione con un primo davanti, il primo davanti sarà quello sinistro, quindi quello dove andremo a realizzare i bottoni, le asole per i bottoni e che sarà accavalato sopra all'altra metà del davanti. Andiamo a avviare le 52 maglie, io vado a fare un avvio finto a macchina, quindi a tubolare, giù nell'info box troverete il tutorial dettagliato di avvio maglie. Fatto il mio avvio di 52 maglie, ripeto, ho avviato il tubolare con i ferri del numero 2, dopodiché ho proseguito la lavorazione del punto a coste 1 a 1 con i ferri del numero 2 e mezzo. Se volete potete realizzare qualsiasi tipo di avvio, quello che è più comodo per voi, quindi qualsiasi avvio e andiamo a realizzare 8 ferri in altezza di punto a coste 1 per 1. Fatto ciò, dovremo andare a realizzare la prima asola. Il vivagno vado a lavorare a diritto inizio ferro e a rovescio a fine ferro, su tutti i ferri sia andata che il ritorno. Quindi adesso dovremo andare a creare le due asole, a destra e a sinistra, perché il nostro coprispalle si chiuderà con i due bottoncini. Il vivagno, la prima maglia. Dopodiché, continuo a lavorare 1 a 1 in tutto 5 maglie. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5 maglie. Le due maglie successive le lavoro insieme a diritto. Dopodiché vado a fare un gettato. Continuo a lavorare il punto a coste 1 a 1 fino a quando sui ferri non rimarranno 18 maglie, dove poi andremo a fare la seconda asola. 18 maglie sul ferro sinistro e quindi dobbiamo realizzare l'asola. Vado a fare prima il gettato e poi due maglie insieme. Poi magari prestate attenzione anche a un piccolo particolare, perché ognuno di noi comincia il lavoro con il punto diverso. Per esempio, se avete incominciato la realizzazione con punto diritto e vi trovate due maglie insieme a diritto, li farete a diritto. Se per esempio, come qui a me capita, che sono una rovescio, la prima la diritta e la seconda rovescio, io dovrei lavorare le due maglie insieme a rovescio e non a diritto. Perché se andrò a realizzare a diritto, qui poi si andrà a formare il punto coste sbagliato, per cui dobbiamo lavorare la maglia a diritto o a rovescio. Dipende dalla maglia, la seconda maglia come si presenta, se si presenta a diritta oppure rovescio. Quindi abbiamo fatto il gettato, due maglie insieme, dopodiché si prosegue lavorando uno ad uno fino alla fine di tutto il ferro. Terminato il ferro, giriamo il nostro lavoro e andiamo a realizzare un ultimo ferro di punto a coste uno ad uno, quindi lavorando tutte le maglie come si presentano e poi andremo a realizzare il punto rasato diritto. Ritornati indietro, in tutto adesso abbiamo dieci ferri in altezza, quindi vado a cambiare il numero dei ferri, prendo i ferri del numero tre e mezzo, continuerò la lavorazione con il ferro più grande e vado a lavorare quattro giri con il punto rasato diritto, per cui lavoro tutte le maglie a diritto sul diritto di lavoro e tutte le maglie a rovescio sul rovescio di lavoro. Per quattro giri in altezza, abbiamo lavorato i quattro ferri in altezza, qui abbiamo le asoline da un lato e anche dall'altro lato. Adesso dobbiamo andare a eseguire delle diminuzioni, tenendo il lavoro rivolto con il diritto verso di noi andremo a fare le diminuzioni inizio ferro. Le diminuzioni farò in modo seguente, il vivagno, dopodiché due maglie insieme prese da sinistra verso destra, quindi due maglie insieme all'italiana. Dopodiché lavoro tutte le maglie a diritto fino alla fine di tutto il ferro, il ferro di ritorno si lavorano tutte le maglie a rovescio, quindi andrò a eseguire questa diminuzione in ogni ferro dispari, quindi ogni ferro di andata, il ferro uno, tre, cinque, sette e così via, andremo a realizzare questa diminuzione, fino a quanto non andremo a lavorarci in tutto per una decina di centimetri, dove poi andremo a realizzare lo scalfo per sotto al braccio. Lavorato il davanti, sempre con delle diminuzioni, quindi piano piano vanno a diminuire le maglie. Ho lavorato per un totale compreso il punto elastico per circa 12,5 cm, dopo elastico ho fatto 32 ferri in altezza con le diminuzioni. Li vi dico i ferri che così magari se qualcuno sta realizzando con lo stesso filato si rende conto quanti ferri sono, queste sono le nostre asoline. Adesso dobbiamo andare a realizzare lo scalfo e quindi per realizzare lo scalfo dobbiamo ritornare indietro e fare da questa parte, le maglie si chiudono dal rovescio nel davanti sinistre. Inoltre adesso cambierà il ritmo delle diminuzioni, se fino ad ora le diminuzioni abbiamo realizzato, ogni due ferri una diminuzione, andremo a cambiare il ritmo e lavoreremo una volta ogni quattro ferri, la diminuzione e una volta ogni due ferri la diminuzione, quindi li andiamo a intercambiare, quindi una volta ogni quattro, una volta ogni due, fino alla fine di tutto il nostro lavoro. Vado a lavorare adesso, la diminuzione di qua non la farò, comincio subito da quattro ferri e chiuderò le maglie dall'altra parte per lo scalfo manica. Ci troviamo al rovescio del nostro lavoro e ci troviamo dal lato opposto rispetto alle diminuzioni che abbiamo. Vado a chiudere tre maglie, quindi entro attraverso la prima e la seconda maglia del ferro e lavoro due insieme. Riposiziono la maglia sul ferro sinistro, di nuovo lavoro due maglie insieme, la maglia ottenuta metto sul ferro sinistro e ancora una volta due maglie insieme. In questo modo ho lavorato le tre maglie, le ho chiuse le tre maglie, quindi ritorno indietro fino alla fine di tutto il ferro lavorando al rovescio. Ci troviamo di nuovo sul diritto del nostro lavoro e qui vado a realizzare la diminuzione, perché nel ferro precedente, il ferro diritto, la diminuzione non l'ho realizzata, quindi in questo ferro la vado a realizzare, perché la diminuzione faremo quattro ferri, due ferri, ogni quattro ferri una volta, ogni due ferri una volta, e quindi andiamo a fare sempre così, quattro ferri, dopo quattro, dopo due, dopo quattro, dopo due. Fatto ciò vado a lavorare tutte le maglie fino a quanto non rimangono cinque maglie alla fine del ferro. Da adesso in poi andremo a realizzare anche delle diminuzioni per lo scalfo manica, quindi lavoro tutte le maglie fino a che non rimangono soltanto cinque. Ecco le cinque maglie sui ferri, qui la diminuzione la vado a fare al contrario, giro le mie maglie, vado da dietro ai ferri, lavoro due maglie insieme, di nuovo giro le due maglie successive, le riposiziono sul ferro sinistro e vado a lavorare due maglie insieme. In questo modo abbiamo diminuito due maglie, quindi realizzato una doppia diminuzione. Questa doppia diminuzione la andrò a ripetere ancora per due volte, quindi se questo era il primo ferro con la doppia diminuzione al terzo e al quinto ferro, questa diminuzione la vado a ripetere ancora al terzo e al quinto ferro, sempre la doppia diminuzione. I ferri di rovescio si lavorano tutte le maglie come si presentano. Contemporaneamente lavoriamo le diminuzioni dal lato opposto una volta ogni quattro ferri e una volta dopo due ferri. Quindi andiamo a proseguire così ancora per circa un 10 centimetri di altezza, 10-11 centimetri. Lavorato il davanti, qui abbiamo lo scalfo, quindi dove abbiamo chiuso le tre maglie, ho realizzato la doppia diminuzione per tre volte in altezza e qui poi abbiamo proseguito con le diminuzioni una volta ogni due e una volta ogni quattro ferri. Andiamo a lavorare per un'altezza dallo scalfo in poi un'altezza di circa un 11 centimetri. Adesso andrò a realizzare dei ferri accorciati per far scendere un pochino la spalla, quindi andiamo a contare dal lato della spalla, quindi questo qui dove abbiamo eseguito le diminuzioni, dal lato della spalla vado a contare 6 maglie, mettiamo il primo segnapunto, 6 maglie, mettiamo il secondo segnapunto. Quindi vado a lavorare tutte le maglie fino all'ultimo segnapunto, li lavoro sempre a rasato diritto. Il primo segnapunto passo da un ferro all'altro e proseguo. Ecco l'ultimo segnapunto, lo vado a eliminare, non mi occorre più. La maglia successiva passo da un ferro all'altro senza lavorare, metto il filo sotto la maglia, ripasso la maglia nuovamente sul ferro sinistro, giro il lavoro e lavoro tutte le maglie a rovescio. segnapunto passo da un ferro all'altro e continuo. Giriamo il lavoro, ripetiamo. Lavoro le maglie fino al segnapunto, lo vado a eliminare, non mi occorre più e come prima il filo davanti al lavoro, passo la maglia senza lavorare, metto il filo dietro alla maglia, ripasso la maglia sul ferro sinistro, giro il lavoro e ritorno con tutte le maglie a rovescio. Adesso vado a lavorare tutte le maglie a diritto fino alla fine di tutto il ferro e dopodiché andrò a chiudere. Cerchiamo di tenere ben stretto il filo in questo passaggio per non allargare le maglie e non far vedere i nostri giri accorciati. fatto. Ora posso andare soltanto a chiudere tutte quante le maglie. Li chiudo in questo modo, lavoro due maglie insieme a rovescio, passo il filo davanti ai miei ferri e lavoro due insieme a rovescio. Rimetto il filo sul ferro sinistro, entro la prima e la seconda maglia, lavoro due insieme a rovescio. Proseguo così fino a quando non vado a chiudere completamente tutte quante le maglie. Chiuso tutte le maglie del primo davanti, andiamo a avviare il secondo davanti. Il secondo davanti avvio esattamente lo stesso come il primo, quindi stesso numero di maglie di avvio, stessi ferri in altezza di punto a coste, quindi 10 ferri in altezza. Su quest'altro davanti non ci sono le asole, quindi 10 ferri di punto a coste e basta. Poi dopo andremo a realizzare quattro giri di maglia rasata diritta e cominciamo a realizzare le nostre diminuzioni ogni due ferri. L'unica differenza è che saranno realizzati al lato opposto. Se sul primo davanti, il davanti sinistro, abbiamo realizzato le diminuzioni inizio ferro, quest'altro davanti destro invece realizzeremo a fine ferro. Quindi rimanendo tre maglie sui ferri andiamo a lavorare due maglie insieme e il vivagno, ogni due ferri fino allo scalfo. Arrivati all'altezza di scalfo, le diminuzioni sull'apertura del davanti saranno realizzate una volta ogni quattro ferri e una volta ogni due ferri e dal lato opposto realizzeremo lo scalfo manica. Quindi chiudiamo tre maglie e faremo la doppia diminuzione per tre volte in altezza. I due davanti sono pronti, saranno accavallati uno sopra l'altro in questa maniera e quindi poi cusciti vicino al nostro dietro. Terminato i due davanti andremo a realizzare il dietro. Il dietro andiamo a fare un avvio, avvio di dieci maglie in più rispetto al davanti per cui sul davanti ho avviato cinquantadue maglie di avvio, invece sul dietro vado ad avviare sessantadue maglie di avvio. Quindi il punto accoste per dieci ferri in altezza, dopodiché si prosegue con la maglia rasata diritta fino allo scalfo manica, quindi stessa altezza come abbiamo realizzato anche per il davanti. Ecco, nel mio caso sono 32 ferri in altezza, quindi devono corrispondere di altezza entrambe le parti, sia i due davanti che il dietro. Ripeto, nel mio caso sono 32 ferri in altezza. Dopodiché andiamo a realizzare le diminuzioni per lo scalfo manica, chiudendo tre maglie da un lato, lavoriamo il ferro, chiudiamo tre maglie dall'altro lato e andiamo a realizzare la doppia diminuzione a destra e a sinistra per tre volte in altezza. Si prosegue per circa 11 centimetri in altezza per realizzare lo scalfo e quindi i ferri accorciati. Per i ferri accorciati andremo a posizionare due segnapunti di un colore da un lato, due dall'altro lato, mettendo sei maglie segnapunto, sei maglie segnapunto, così anche dal lato opposto, per cui sei maglie segnapunto, sei maglie segnapunto. Andremo a lavorare tutta maglia rasata diritta fino all'ultimo segnapunto sul ferro e ritorneremo indietro con ferro accorciato. Di nuovo l'ultimo segnapunto dall'altro lato, lato opposto, e andremo a ritornare di nuovo indietro fino all'ultimo segnapunto, ritorniamo indietro, l'ultimo segnapunto, ritorniamo indietro e andiamo a chiudere tutte quante le maglie. Chiuso tutte le maglie, anche il dietro è pronto e quindi andiamo a realizzare le due maniche. Quindi, prima di tutto andremo a chiudere le tre maglie iniziali. Entro attraverso la prima e la seconda maglia del ferro, lavoro due maglie insieme e la maglia ottenuta vado a riposizionare nuovamente sul ferro sinistro. Di nuovo, entro attraverso le prime due maglie, le lavoro due maglie insieme, la maglia ottenuta va sul ferro sinistro. Così andiamo a realizzare per tre volte, abbiamo chiuso tre maglie iniziali, quindi proseguo la lavorazione fino alla fine di tutto il ferro. Arrivati alla fine ferro, andiamo a girare il lavoro e adesso anche da questa parte dovremo andare a chiudere tre maglie. Quindi, come prima, vado a entrare attraverso le prime due maglie del ferro, le lavoro insieme a diritto, riposizioniamo la maglia ottenuta sul ferro sinistro, lavoriamo di nuovo due maglie insieme, lo andiamo a ripetere per tre volte per chiudere le tre maglie, quindi ritorno lavorando tutte le maglie a rovescio. Abbiamo chiuso le maglie da destra e da sinistra, le tre maglie, adesso dobbiamo eseguire delle diminuzioni, farò in modo seguente, il vivagno, dopodiché vado a realizzare una doppia diminuzione, per fare ciò giro le entrambe maglie e lavoro due maglie insieme all'italiana, ripeto per la seconda volta, per cui abbiamo realizzato la prima diminuzione, andiamo a realizzare la seconda diminuzione, quindi abbiamo eseguito una doppia diminuzione da destra e ora faremo la doppia diminuzione anche da sinistra, quindi lavoro tutte le maglie a diritto fino a quanto non rimarranno 5 maglie sui ferri, rimangono 5 maglie, vado a eseguire la doppia diminuzione, lavoro due maglie insieme prese da dietro ai ferri, se lavorate all'italiana e avete posizionate le maglie così che li prendete da davanti, l'andate a prendere entrambe, le girate e quindi andate a prendere le maglie da dietro ai ferri, per la prima volta, quindi la prima diminuzione, la seconda volta due maglie insieme, la seconda diminuzione, abbiamo eseguito una doppia diminuzione, dopodiché lavoro il vivagno, questa doppia diminuzione abbiamo eseguito al ferro 1, il ferro 2 si lavorano tutte le maglie a rovescio, al ferro 3 e al ferro 5 andremo a ripetere esattamente la stessa diminuzione, quindi doppia diminuzione da destra e doppia diminuzione da sinistra, ripetuta per 3 volte in altezza, la prima l'abbiamo appena fatta, dopodiché andiamo a proseguire in altezza per circa un 10 centimetri e mezzo 11 centimetri di altezza di maglia rasata diritta, tutto diritto, per le maniche vado a fare un avvio di 48 maglie e vado a lavorare il punto a coste per un 12 ferri in altezza, la manica all'altezza del punto a coste faccio due ferri in più rispetto al davanti e dietro, dopo di che vado a proseguire con la maglia rasata diritta i primi 14 ferri, ogni 14 ferri andremo a realizzare degli aumenti, gli aumenti saranno fatti inizio ferro e fine ferro, quindi il diritto, dalla prossima maglia da sotto al ferro abbiamo un filo orizzontale qui sotto e lo lavoro a diritto, dopo di che vado a lavorare tutte le maglie sui ferri fino a quanto non rimarranno due maglie, due maglie sul ferro anche qui vado a realizzare un aumento, quindi il filo orizzontale da sotto al ferro lavoriamo a diritto, dopodiché lavoro le ultime due maglie, quindi andremo a proseguire con questi aumenti ogni 14 ferri in altezza, proseguito con degli aumenti destra e sinistra e ho lavorato in tutto per circa un 20 centimetri di lunghezza totale compreso il punto ad elastico, adesso dobbiamo andare a realizzare gli scalpi per la manica, quindi devo andare a chiudere 3 maglie inizio ferro, 3 maglie dall'altra parte, faremo in questo modo, lavoro 2 maglie insieme, riposiziono la maglia ottenuta, di nuovo 2 maglie insieme la seconda volta, 2 maglie insieme la terza volta, abbiamo chiuso le 3 maglie, lavoro tutte le maglie fino alla fine di tutto il ferro, il vivagno, quindi giriamo il nostro lavoro e anche da questo lato dobbiamo andare a chiudere le 3 maglie, prendo il vivagno, vado a passare il filo in avanti, rimetto la maglia su e vado a lavorare 3 maglie insieme a rovescio, esattamente così si fa anche per il dietro, 2 e 3, perché anche sul dietro del nostro lavoro ci saranno le diminuzioni sia da un lato che dall'altro, quindi si chiuderanno le maglie esattamente così, fatto ciò vado a lavorare tutte le maglie a rovescio fino alla fine di tutto il ferro, tornati indietro, adesso dobbiamo andare a eseguire delle doppie diminuzioni, andremo a lavorare il restante della manica con le diminuzioni doppie oppure singole, per le doppie diminuzioni vado a lavorare il vivagno, dopodiché 2 maglie insieme, ma le lavoro prendendoli da davanti ai ferri, la prima volta, quindi abbiamo eseguito la prima diminuzione, giro una coppia di maglie la seconda volta e li lavoro insieme e ho eseguito la seconda diminuzione, per cui ho fatto la doppia diminuzione sul lato destro, così dovremo fare anche sul lato sinistro, per cui lavoro tutte le maglie fino a quanto non rimarranno 5 maglie sui ferri, rimangono 5 maglie sul ferro, vado a lavorare 2 maglie insieme, prendendoli dietro ai ferri la prima volta e 2 maglie insieme la seconda volta, per cui ho eseguito anche dall'altra parte la doppia diminuzione, il vivagno, quindi al primo ferro delle diminuzioni abbiamo eseguito la doppia diminuzione a destra e a sinistra, al terzo ferro faremo la seconda volta la doppia diminuzione a destra e a sinistra, dopodiché andremo a realizzare le diminuzioni singoli, per cui lavorando una diminuzione sulla destra e una diminuzione sulla sinistra, in tutto andremo a ripetere la diminuzione singola per 8 volte in altezza, dopo aver fatto la diminuzione singola per 8 volte, entrambi i lati naturalmente, andremo a fare una doppia diminuzione, quindi lavorando 2 maglie insieme la prima volta, 2 maglie insieme la seconda volta, sia inizio ferro che fine ferro, quindi la doppia diminuzione a destra, doppia diminuzione a sinistra, andremo a chiudere completamente tutte quante le maglie senza tornare indietro, per cui chiudendo le maglie dal rovescio di lavoro, anche per le altre taglie faremo così, questo serve la doppia diminuzione la prima volta, la diminuzione la prima volta, la diminuzione la seconda volta, il vivagno, giriamo il lavoro e chiudiamo completamente tutte le maglie subito senza ritornare indietro, questo serve per andare ad arrotondare un pochino la rifinitura della nostra manica, quindi la manica farlo un po' più rotonda e senza i pizzi, chiudo le maglie lavorando 2 maglie insieme a rovescio per tutto il ferro, la seconda manica si realizza esattamente come la prima manica, per cui possiamo dire che abbiamo terminato con la lavorazione di tutte le parti e possiamo andare a eseguire le cuciture, vi consiglio di andare magari a vaporizzare il lavoro o lavarlo, così si distende, controllare tutte le misure e dopo andare a eseguire tutte le cuciture, al termine andremo soltanto rifinire con l'uncinetto l'apertura e sarà finito, quindi vi mostro la seconda manica, tutti i pezzi e andiamo a fare le cuciture, le cuciture le possiamo realizzare sia all'uncinetto che con ago da lana, non fa assolutamente alcuna differenza e soltanto come è più comodo per voi, quindi qui ho una manica, la seconda manica esattamente uguale, tutte le altre parti sono pronte, bisogna andare a cucire prima le spalle, quindi il dietro e il davanti andremo a eseguire la cucitura delle spalle, controlliamo che corrispondono gli scalfi che sono qui, andiamo a eseguire prima la cucitura di entrambe spalle, poi le cuciture dei fianchi e al fine andremo a incorporare la nostra manica, farla calzare all'interno e chiudere la manica, il nostro coprispalle è tutto pronto, volendo possiamo anche lasciare così, perché poi alla fine non si attorciglia più di tanto, quindi si potrebbe lasciare anche così, ho attaccato dei bottoncini, l'etichetta e si potrebbe dire che è pronto, io però andrò a realizzare un'ulteriore rifinitura intorno a tutta quanta l'apertura, per cui andrò a prendere i ferri del numero due e mezzo, naturalmente sempre il filato e vado a riprendere tutte quante le maglie di vivagno, si può realizzare sia con i ferri lineari che con i ferri circolari senza problemi, quindi vado a riprendere completamente tutte quante le maglie di vivagno in questo modo riprendendola una ad una, se avete necessità potreste anche andare ad aiutarvi con un uncinetto se non riuscite a riprendere le maglie con i ferri, quindi ripreso a lungo dell'apertura del primo davanti, saliamo su per il dietro e ritorniamo per l'apertura del seconda metà del davanti, si riprende vedete dal diritto di lavoro e non dal rovescio, ripreso le maglie andrò a realizzare giusto tre ferri in altezza di punto a coste uno ad uno e andrò a chiudere tutto quanto ad ago, quindi facendo la chiusura ad ago, giù nell'info box troverete il link del tutorial dettagliato e soltanto a quel punto potremmo dire che il nostro coprispalle è terminato, con questo possiamo concludere, grazie mille per avermi seguito e ci vediamo nel nostro prossimo tutorial. Grazie mille!